good morning juventus quando eravate bambini avete mai giocato con quella rotella che aveva il filo che si chiamava io io praticamente la torcigliavate lasciavate cadere la rotella e poi facevate questo movimento sfruttando appunto il movimento è in alto in basso e faceva l'ioio tornava su poi andava giù poi tornava su poi tornava giù ecco che ricordi meravigliosi della mia infanzia questo è il campionato dell'ioio perché è semplice avremmo dovuto avere un tot di punti ce l'hanno tolti 15 adesso da tutte le parti sono convinti certi sicuri e magari è anche vero che si ristituiranno e quindi torneremo nella vetta della classifica tra le prime quattro non so se saremo secondi terzi o quarti ma comunque torneremo nelle prime quattro perché se non vinciamo con la sandoria e perdiamo con l'inter comincia a diventare difficoltoso ma poi dopo c'è l'eventualità che venga rimodulata la penalizzazione e quindi dovremmo tornare ancora più in basso però se non viene rimodulata la penalizzazione rimaniamo in alto però poi c'è la manovra stipendi che se la manovra stipendi ci penalizzano andiamo ancora più in basso di quello che siamo adesso se invece la manovra stipendi verrà anche anch'essa fatto ricorso dalla società ma magari ci sarà un altro ita un altro ita della della procura e magari recuperiamo dei punti insomma ma che cacchio di campionato è questo qua ma si possono fare queste cose campionato in corso io ho il titolato campionato falsato avrei dovuto titolare campionato io io però rende molto più d'idea il titolo campionato falsato questo è un campionato falsato perché i giocatori delle juventus vanno in campo per fare i tre punti che è lo scopo di qualsiasi giocatore di calcio a parte a parte allegri che è un allenatore lui non gli interessa fare tre punti lui gli interessa non ho ancora capito cosa gli interessa ma un giorno lo capirò spero e quindi lui scusate quindi i giocatori vanno in campo per fare i tre punti però un giocatore che ha un po di sal in zucca per non dire cervello o neuroni collegati non è che siano dei geni giocatori di calcio si sa però qualcuno intelligente qualcuno un pochettino così no esiste dice cavolo ma io mi sto facendo un mazzo così corro come un pazzo sudo alla juve non è che siano tanti che fanno questo va detto però insomma sudo corro e per cosa perché poi una mattina si sveglia kinè si sveglia santoriello si sveglia cestaro si sveglia mio nonno si sveglia mio zio la juve mi sta sulle balle dici punti in meno la juve c'è qualcosa che non mi torna cinque punti in meno poi arriva quell'altro che dice ma cosa state facendo siete pazzi guardate che la juve non ha fatto niente le plusvalenze non sono proibite ah non sono proibite ah beh allora se non sono proibite chiedo scusa allora gli restituiamo i punti cioè ma come come fa un giocatore di calcio pur professionista che sia andare in campo con questo tipo di atteggiamento sapendo che i punti che fa potrebbero essere virtuali e non reali capite questa è una cosa molto grave io ho sofferto moltissimo la retrocessione serie b di calciopoli nel 2006 ma lì almeno lì almeno il campionato era finito lo avevamo vinto bene quello quello precedente ce li hanno revocati ma non me ne frega niente per me quei due scudetti ci sono io gli album delle figurine panini dove c'era juventus campioni d'italia quindi quello lì rimane stampato nella storia che poi se la fisica gli avvocati mi interessa relativamente ma qui purtroppo non possiamo dire noi in realtà saremo 50 noi in realtà saremo 60 noi in realtà saremo 48 noi in realtà saremo 53 noi purtroppo siamo a quello che siamo a quello che siamo ok dobbiamo affrontare fra due giorni la sampdoria sperando di fare tre punti ma questi tre punti se li faremo speriamo facciamo le dita con la sampdoria resteranno verranno tolti resteranno verranno tolti capite capite già ne hanno tolti due con la salernitana senza processi senza procura federale perché non hanno visto il vare cieco con la juve il vare cieco con gli altri ci vede benissimo con la juve cieco non hanno visto che candreva teneva in gioco tutta la juventus tutta dal magazziniere in giù quindi questo campionato io io a me non sta piacendo proprio per niente io ho un compito fra virgolette istituzionale faccio lo youtuber devo parlare di juve ne parlo molto volentieri amo la juve la critico la esalto se fa qualche buona partita parlo dei giocatori di tutto quanto però onestamente avere la spada di damocle perché di fatto è una spada di damocle sulla testa di punti in più punti in meno punti in più punti in meno e non sapere esattamente dove siamo e dove andremo a me francamente questa cosa mi dà molto fastidio ditemi se da fastidio a parte gli anti juventini che sono felicissimi ma ditemi se da fastidio anche voi provate per un attimo immaginare che questo che è stato fatto alla juventus fosse stato fatto a qualsiasi altra squadra dalla cremonese al napoli così ho fatto dall'ultima classifica la prima avrebbero tutti i quotidiani sportivi tutti social media tutti gli youtuber non juventini avrebbero tutti e forse anche noi juventini avremmo tutti gridato allo scandalo di un campionato falsato siccome l'hanno fatto la juventus nessuno dice nulla tutto tace tutto passa sotto silenzio ma come diceva murino sento da lontano il rumore dei miei nemici e noi di nemici ne abbiamo tanti good morning juventus